Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa dedicata al film Pantafa di Emanuele Scaringi che accogliamo insieme alle attrici Kasia Smutniak e Greta Santi, abbiamo poi Samantha Antoni Cola per Rai Cinema, Domenico Morprocacci per La Fandango e poi ci sono le due cosceneggiatrici di Emanuele, Tiziana Triana e Vanessa Picciarelli, ho detto tutto giusto? Citiamo anche come attori del film Giuseppe Cederna e Betty Pedrazi e infine i costumi che sono di Gabriella Pescucci che sappiamo non avere bisogno di grandi presentazioni. Allora Emanuele il tuo film in Pantafa è nella sezione fuori concorso Cresi ed è un'anteprima mondiale appunto produzione Fandango con Rai Cinema, un attimo di breve percorso tuo, è il tuo secondo lungometraggio, dopo un primo momento in cui sei stato produttore creativo per alcuni lavori Fandango, poi regista della serie Alligatore, regista della serie Bangla che è andata in onda in questa primavera e poi regista del primo film La profezia dell'armadillo e la zero calcare, quindi un approdo adesso ad un horror psicologico, fanta horror che mi viene da chiederti quali sono le fonti di ispirazione, quali sono le direzioni che hai voluto prendere con questo lavoro che è del tutto nuovo. Buongiorno, all'inizio non avevo mai immaginato di approcciarmi all'horror, ho incontrato questo articolo sui disturbi del sonno e da lì facendo delle ricerche ho scoperto questa strega, la pantafa appunto di origine abruzzese e lavorando sul folklore ci è venuta l'idea con Tiziana all'inizio e poi con Vanessa di raccontare un po' questo mito e di costruire, di avere un nostro immaginario folk italiano che è sempre poco sfruttato e qui siamo partiti. Infatti avevo anche questa domanda per Samantha, per Rai Cinema, perché questo è comunque una produzione in cui gli aspetti che avete condiviso vi hanno convinto pur essendo un genere che è abbastanza particolare da produrre, da far uscire nelle sale, insomma è un progetto importante. Buongiorno, sì è vero, normalmente Rai Cinema non produce, finanzia film di genere specificamente horror, questo aveva un'altra, però questo qui che abbiamo messo in produzione ormai due anni fa, diciamo, un anno fa, abbiamo patito il covid eccetera eccetera, aveva però delle caratteristiche diverse, non solo questo tema del territorio, del folklore, ma anche questo punto di vista sul femminile ci aveva molto attratto, cioè sulla condizione di una donna da sola che si cresce una figlia e che horror o non horror è soggetto a tutta una serie di, come si dice, di pregiudizi nei suoi confronti da un lato e dall'altro può anche sviluppare una sua parte oscura che è molto un tabù nel mondo occidentale in generale, cioè che appunto una donna deve essere per forza felicemente madre e come dire immolata a questo suo ruolo e questo film indaga attraverso il genere in questo tema e lo fa a nostro avviso con molta intelligenza, dunque questo aspetto in particolare ci ha convinti. Su questo poi ci torniamo magari con Cascia, intanto voglio capire con Domenico quali sono le caratteristiche di Emanuele che ormai è un collaboratore fidato e che cos'è che ti piace di lui, l'inventiva, la fantasia, il fatto che si può muovere su più generi. Non so a che ora è la prossima conferenza stampa perché io di Emanuele potrei parlare molto a lungo, perché sì è vero lo conosco ormai bene e ha fatto tante cose con noi anche al di là di quelle che hai elencato e al di là delle regie che ha firmato, quindi ha collaborato a molti i nostri progetti. Credo che Emanuele sia un regista capace anche di esplorare territori diversi, il primo film appunto ha poco a che fare con questo, credo condividiamo l'idea che il genere è uno strumento per raccontare anche altro, o almeno io penso così, il genere di per sé, sì, mi sembra a volte quasi un po' un esercizio di stile, quando il genere invece in questo caso va verso il folk e racconta un rapporto così particolare tra una madre e una figlia, insomma, quando è un mezzo per raccontare anche altre cose interessanti, dare altre suggestioni, sconfinare in qualche modo, mi sembra che sia un bene, un bene lavorare sul genere e lui è perfettamente in grado di farlo, è anche un regista tecnicamente molto preparato, è anche una delle persone più testarde che io abbia conosciuto in vita mia e ne ho conosciute tantissime, però lui penso che sia nella top ten della testardaggine, ma questo, insomma, a volte può essere faticoso, ma è anche un pregio ed è bene che i registi siano, alla fine, bene che siano così e penso di aver detto abbastanza. Anche perché se va avanti non sappiamo cosa può venire fuori, quindi meglio se... Io volevo passare un attimo la parola al pubblico, sapere se ci sono delle domande e poi ritornare sulle signore del tavolo. Ci sono domande? Buongiorno, vorrei sapere dalle due attrici invece come è stato instaurato il rapporto madre-figlia, come è andata, come avete lavorato. Grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come si instaurano i rapporti tra gli attori è sempre un mistero e avviene sempre in una maniera diversa, non c'è un metodo preciso, non c'è un... Noi ci siamo incontrate durante i provini e anche tutto il percorso che abbiamo fatto nella fase preparatoria che comprendeva i provini era una fase molto intensa e molto difficile perché la ragazza che doveva interpretare questo personaggio doveva essere una ragazza abbastanza piccola di età ma abbastanza grande per poter trasmettere una serie di cose... doveva essere conscia o doveva avere delle abilità specifiche per interpretare questo ruolo quindi già questo non era facile. Con Greta mi ricordo il nostro primo incontro e poi il provino e mi ricordo che lei lo ha affrontato, lo ha fatto in una maniera così sorprendente, così... era un'emotività lucida, ha dosato l'emozione pura ma era anche in grado di distanziarsi da quello che stava facendo questo era fondamentale perché questo è un film di paura e l'emozione della paura è un'emozione che ti... almeno non è un'emozione che mi piace particolarmente però è un'emozione che ti rimane addosso per un sacco di tempo e se non sei in grado di dosarla, di utilizzarla nel momento quando serve, o meglio se entri in quel trip della paura non riesci più a fare nient'altro. E Greta è stata la più grande professionista di questo set, di questo film me compresa Scaringi qua presente e tutti quanti noi ha avuto, non lo so, una maturità da una donna adulta sul set con l'entusiasmo di una bambina, come giusto che sia. abbiamo avuto un rapporto bellissimo che va oltre quello che si può restaurare, che possono restaurare gli attori sul set forse perché abbiamo dovuto comunque trovare dentro di noi quelle parti oscure e forse la paura in certi momenti ci ha uniti adesso mi fa impressione, con Greta non ci vediamo da più di un anno, la vedo cresciuta, la vedo donna però mi aggancio un attimo all'aspetto femminile già che ci siamo, no? effettivamente questo è un film che racconta una parte femminile dell'universo c'è una donna, c'è una madre, c'è una figlia, c'è una donna adulta che è quella che tramanda il proprio sapere a queste due donne, due femmine e c'è il lato oscuro, anche questa una donna e quindi andare a esplorare alcune parti che ci sono probabilmente solo nel subconscio femminile non a caso le paure, la paura, la maggior parte dei cosiddetti mostri, no? sono delle donne, oddio qua no, forse mi sto addentrando in una cosa che non conosco e anzi, no? è il mondo dell'horror però rendere uno spavento, un mostro, renderlo una donna aggiunge al mostro tanti altri aspetti che non è solo quello della paura io ho trovato tutte queste cose estremamente interessanti a parte il tema delle crisi ipnagogiche e tutto quello che avviene però questa parte femminile per me era una base da quale partire per raccontare una storia e un personaggio grazie, ma c'è anche l'aspetto di una mamma che decide di portare la figlia in un luogo che dovrebbe dare conforto alla sua fragilità e che invece si ritrova che il contesto acuisce le sue fragilità quindi quello forse è anche un momento in cui la mamma deve interrogarsi su quali forze prendere dentro di sé per portare avanti, no? c'è stato anche questo lavoro, immagino, per te sì, sì, io potrei qua parlare tantissimo su vari aspetti su quello che ho cercato di fare per costruire questo personaggio ma più che il personaggio è il rapporto per capirlo io in primis quindi senza giudicare il personaggio stesso, no? per me dal mio punto di vista prevaleva assolutamente la psicologia dei personaggi che era necessario proprio nel processo della costruzione della storia quindi il rapporto di questa madre molto fragile con la propria figlia quindi con l'incapacità di avere questo rapporto con il mondo esterno e questa incapacità anche di staccarsi dalla figlia dalla sua parte interiore non solo intima ma anche fisica proprio quindi anche sul rapporto che si crea tra le madri e i figli è quel momento di distacco che fa paura a tutti proprio perché i figli crescono, no? perché sono sempre più indipendenti in tante persone scatena tante paure e non tutti sono in grado di affrontarlo insomma tutti lo affrontano in maniera diversa ecco ecco e qua finisce il mio perché poi quello che ha fatto Emanuele del film io non l'ho visto di fatto non ho visto il film e non credo di vederlo il periodo della lavorazione sul set è stato molto intenso io ho ringraziato più volte Emanuele del trauma che non l'ho avuto adesso ce l'ho che è quello del tra l'altro insomma abbiamo parlato a lungo no? e più volte perché Emanuele aveva questa storia che io non necessariamente volevo leggere perché ho detto no guarda io la cosa mi fa paura posso veramente fare tante cose però è una cosa che io lo so che poi non starò male non capisco il genere non è che non capisco non capisco il motivo per quale dovrei cacciarmi nella situazione di ricreare di avere paura è una sensazione che non mi piace non la trovo eccitante non l'ho mai trovata divertente io sono una di quelle persone che se tu mi spaventi io sto male per una settimana mi metto a piangere subito e poi è passato un anno e poi Emanuele ha ritirato fuori questa storia della pantafa ho detto dai ma sei serio no? ti prego ma non va bene non vado bene non puoi avere una persona sul set che rema contro no? e allora lui mi ha detto così ma tanto tu non dovrai avere mai paura non tu tu non dovrai avere mai paura se non voglio svelare però tu no quindi tranquilla perché thriller psicologico la tua parte e io ci sono cascata cretina sì thriller psicologico quindi mi costruisco il mio personaggio penso a tutta la la psicologia no? al rapporto con la figlia e poi mi trovo sul set trauma ma per mesi trauma per mesi ecco quindi probabilmente questo film probabilmente sarà il primo che non vedrò di proposito e quindi non potrò dirvi nient'altro che quello che ho vissuto sul set però ho visto delle parti non ho visto tutto non ho visto magari finito però l'ho visto e secondo me è la parte che mi interessava dal mio punto di vista c'è ed è molto interessante ho capito tante cose anche guardando il film sono molto contenta di come di come è venuto della parte estetica di questa ecco quando penso alla parte estetica dopo cinque minuti che cominciano le musiche già volevo andarmene quindi già ecco 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 l'atmosfera del film riporta lì dove non vorrei andare però la storia ecco se non fosse un thriller l'avrei visto perché mi interessa il tema non il thriller l'horror delle crisi ipnagogiche però poi fa troppa paura quindi e niente grazie Emanuele basta finisco anche se non lo vedrai penso che ti possiamo confermare che hai funzionato molto bene in questo film io volevo sapere da Greta se invece aveva avuto paura a fare paura perché è una cosa anche quella no? oppure sei stata tranquillissima allora io sul set mi sono trovata benissimo con Cascia ehm io invece sono quella persona che invece fa gli scherzi e ride se le persone si spaventano ehm e faccio scherzi a chiunque sul set mi sono trovata davvero benissimo e non ho avuto paura a parte qualche volta ehm una in particolare però non posso dirlo ovviamente però però per il resto non non ho avuto paura mi sono divertita molto è stato molto bello grazie Greta ci sono altre domande? buongiorno sono Francesca Angiglieri del Corriere della Sera no mi stavo chiedendo come un horror può mi risponda chi vuole può arrivare a spiegare dei temi in maniera più profonda più diretta insomma arrivare di più alle persone perché la scelta di un horror mi ricollego a quello che ha detto prima Domenico secondo me il problema non è un problema di genere il genere è un vestito e questo tema qui tra la mamma e la bambina è un tema che è abbastanza complesso da da affrontare e e l'horror ci sembrava il genere giusto per poterlo renderlo popolare per per darlo a un pubblico più largo possibile negli ultimi anni sono tanti c'è stata una piccola rivoluzione degli horror si è spostato un po' il genere di quelli che chiamano Elevated Horror e hanno cercato di appunto di affrontare dei temi penso a a Get Out su razzismo a Babadook ma anche film europei che un po' più vecchi come Lasciami Entrare dove non è fondamentale il genere secondo me conta il film e l'horror è un modo per raccontarlo in questo senso quello che diceva poco fa Cascia sul sulla difficoltà poi durante anche la lavorazione perché l'horror ti fa affrontare una parte buia di di te stesso e credo che questa cosa di nel film è stata la cosa che mi attratto di più c'è una parte negativa del rapporto tra figli e dei genitori che che è un po' il centro di questo racconto e viene in qualche modo rappresentato da questa figura mitologica della pantafa Io volevo sentire un momento le due cosceneggiatrici perché mi pare che la tematica fosse nelle vostre corde però poi lavorare a quattro a sei mani può essere complicato com'è andata la costruzione della sceneggiatura? Buongiorno a tutti e a tutti dunque sì diciamo il tema era nelle nostre corde a livelli differenti forse questa è stata anche la cosa più divertente io e Emanuele probabilmente condividiamo una grande passione per l'horror e per il genere Vanessa ha più paura penso di Cascia e quindi è stato divertente capire come gestire diciamo questa questa lavorazione quindi siamo partiti all'inizio proprio su come diceva Emanuele su il gestire diciamo così un mito un mito che è presente non soltanto in Abruzzo e nelle Marche che si chiama Pantafa in realtà questo mito è presente in tutta Italia con nomi differenti quindi questo diciamo spirito che ti si mette sul petto e ti ruba il respiro ma in realtà è presente un po' in tutto il mondo con nomi differenti quindi avere a che fare con un mito che ti permette in qualche modo di andare a gestire una paura ancestrale che è quella di perdere il respiro di notte diciamo così dalla morte in culla dei ragazzini alla possibilità di non svegliarsi la mattina penso sia una delle paure più ancestrali quindi gestire questa cosa qui attraverso anche una base scientifica perché le crisi ipnagogiche sono una reale diciamo un reale problema l'8% della popolazione mondiale diciamo così soffre di crisi ipnagogiche persone a noi molto vicine soffrono di crisi ipnagogiche e quindi questa cosa qui ci ha aiutato in qualche modo a entrare in una materia all'inizio che poteva sembrare difficoltosa ma poi cominciando a leggere a studiare e a cercare di capire come gestire questa cosa siamo riusciti per me a strutturare almeno quantomeno una diciamo base solida su cui partire poi sulla parte più complicata e cioè appunto le relazioni all'interno del film in questo appunto abbiamo lavorato veramente in sinergia siamo due sceneggiatrici due diciamo sceneggiatrici donne diciamo così e un regista uomo e il regista uomo era quello che aveva più vi assicuro interesse proprio ad approfondire la questione diciamo così della parte oscura della maternità che lui chiamava sempre materno negativo cercavo di spiegargli che non era cosa giusta però continuava a dire materno negativo però è stato è stato interessante per me costruire un film su uno dei tabù più grandi diciamo della contemporaneità cioè la possibilità che non si possa essere come diceva all'inizio Samantha molto bene non si possa essere per forza sempre felici di essere madri ci possono essere dei momenti di stanca dei momenti di difficoltà e questi momenti di difficoltà purtroppo in una società contemporanea in una società come la nostra diciamo dove i rapporti fra i sessi sono ancora un po' complicati diventa subito uno stigma ecco questo è stato quello che abbiamo cercato di fare grazie e manomale ti sei circondato di donne meno male abbiamo ancora due minuti se ci sono altre domande io volevo sapere anche ma dove è stato girato il film è stato girato tra Lazio e l'Abruzzo il confine tutta la parte della valle dell'Aliene ci sono diversi paesi che sono entrati dentro il film gli altri piani Arcinazzo Arzoli Diofreddo Valinfredda Montecelio c'è tutta una zona anche quella poco vista il lago del Turano che abbastanza occupa un'atmosfera un po' strana che uno dei temi anche questo dei paesi semi abbandonati delle montagne che adesso stanno piano piano rivedendo un piccolo ripopolamento grazie ci avete qualcosa da aggiungere? avete un minuto no? quando lo vediamo questo film in sala? lo vediamo nei primi mesi dell'anno prossimo del 2023 sì ok non so abbiamo ancora una data definita ma penso entro marzo guardo Gianluca Pignataro e annuisce va bene allora andate a vederlo è un film bellissimo grazie ancora complimenti in bocca al lupo Grazie.